me amici oggi vi insegnerò come guidare una lamborghini perché me la sono comprata i risparmi di una vita lamborghini e niente questo è è molto bello il budget era basso ma non è che dobbiamo fare i radassi l'outfit va cambiato perché diciamo non è dei migliori insomma per salire qua sul trattore e poi vi insegno anche ad arare nei prossimi tutorial una cosa